Alle promesse non sono seguiti assolutamente i fatti. Spopolamento, si parla di spopolamento di penne di tanti paesi dell'area vestina, in realtà zero su infrastrutture, zero sulla sanità, tra l'altro sono stati tolti anche 12 milioni e mezzo di euro dall'ospedale San Massimo e il bando per i primi 15 milioni non c'è traccia se non sui giornali ormai da anni. Addirittura il Presidente Marsilio diceva che ad aprile 2021 inizieranno i lavori al San Massimo di Penne. Siamo ad aprile 2022, non c'è neanche il bando per l'aggiudicazione dei lavori. Stessa cosa per le scuole, per l'Istituto Marconi. Due offerte per la progettazione. La provincia di Pescara ha impiegato un anno solo per la progettazione. Siamo nel 2022, i fondi sono disponibili dal 2017. Ancora, per quello che riguarda le piccole e micro imprese dell'area vestina, quindi, ma anche della Valfino e di Caldario di Ortona, parliamo di Montebello, di Civitella, di Villa Celiera, di Penne naturalmente, anche di Picciano. Fondi per quelle piccole imprese che hanno dovuto sopportare l'ordinanza restrittiva di zone rosse del Presidente Marsilio. Una Pasqua 2020 tragica per moltissimi di loro, quello è il periodo importante. Centrosinistra che si impegna per far stanziare nel 2020 1.260.000 euro per far ripartire quelle piccolissime imprese, anche agricole. Sono passati 655 giorni e non c'è ancora neanche il bando. Grazie.